Benvenuti su Notizioni Unpliche, io sono Loredana qui con voi per la giornata di oggi per la legge di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato e che andremo ancora a pubblicarne di nuovi nel corso della giornata Porti, Rixi, Salvini solleva problemi concreti a difesa Italia Mattarella consegna le stelle al merito Lavoro propulsore d'avanguardia del progresso In Italia il 48% delle donne attive ha il lavoro contro il 59% in Europa Nicolas Cage è pronto a dire adiós al cinema La televisione potrebbe essere il suo prossimo passo Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazione Grazie per essere stati con noi Io vi do appunto alla nostra prossima mini rassegna Loredana